qui c'è anche si ciao buona serata e buone chiamate sei arrivato un pochino più pulito il qrm si è un po' abbassato bene buona serata e buone chiamate italian club 5 alfa alfa cq cq 80 metri cq cq 80 metri italia quebec 5 alfa alfa chiamo ascolta stazione valida 5 punti per il diploma campionati del mondo di ciclismo avanti si italia 0-3 whisky pop to zara italia delta italia quebec 5 alfa alfa avanti si perfetto daniele in venezia 5-9 il segnale anche per te 5 punti validi per il diploma campionati del mondo di ciclismo ringrazio per la chiamata è un segnale molto molto pulito nessun problema di ricezione nome dell'operatore in questo momento Andrea sezione aria di Siena la città di Siena il cambio nuovo per te c'era l'envisa anche lui grazie mille sì Daniele nessun problema grazie mille arrivi 5-9-9 più 20 per cui segnale molto buono molto pulito senza nessun problema almeno qui in Siena nuovo il cambio per te ciao grazie anche a te buone chiamate anche a te grazie mille